RIPARTE LA STAGIONE SCOLASTICA Meno al 25 ottobre farà sosta in strade, piazze, biblioteche e parchi, coinvolgendo universitari e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Questo autobus è praticamente cultura itinerante, nel senso che in tutte le zone di Napoli, soprattutto quelle più disagiate, noi porteremo libri, porteremo la possibilità di acquisire libri, di scambiare libri e quindi di accedere al mondo della cultura, della scienza, del ravvivare le proprie passioni per dei ragazzi che ora stanno cominciando il percorso scolastico o sono già a buon punto. Dieci tappe nelle dieci municipalità della nostra città, piazze, biblioteche, giardini, università per promuovere lo scambio dei libri di testo medi universitari. Anche il compito di favorire chi non può permettersi spesso e volentieri di entrare in una libreria e comprare tutti i libri ex novo, che i ragazzi siano al centro di questa cosa significa un'idea di città che si muove in solidarietà. Il progetto è reso possibile grazie alla sinergia tra assessorato ai giovani, alla scuola, alla cultura, alla tutela del consumatore e alla comunicazione e si avvale della collaborazione di Publipeas e Unione degli Universitari. Il calendario completo delle tappe è consultabile anche sul sito del Comune. Vogliamo anche legare questa iniziativa a quello che sta accadendo, alle sempre più librerie che sono in difficoltà. Il nostro obiettivo è che un bambino di sei anni, uno giovane ragazzo di 15, abbia nelle sue mani più che un iPhone un libro. Un appello anche alle donne e agli uomini di cultura della città di Napoli. Dalle 4 il camper sarà in queste piazze, diamoci appuntamenti per dibattere, per parlare di cultura, di immaginare la nostra città, che dia spazio sempre di più ai ragazzi, non con le parole ma con i fatti.